Nata il 12 febbraio del 1924, ha compiuto 100 anni nella sua trepuzia alla presenza delle istituzioni che hanno voluto renderle omaggio, nonna vita vergine, madre di 5 figli e nonna di 10 nipoti, traguardo delle 100 candeline reso speciale dall'affetto dei familiari e dell'intera comunità che ha voluto festeggiare con lei questo giorno speciale. Nonna vita auguriamo lunga vita e auguriamo soprattutto, tagliamo questo traguardo importante, di godersi la gioia dei figli, dei nipoti e perché avere voi tanti figli, tanti nipoti è un motivo di gioia. Come sottolineato dalle parole del primo cittadino trepuzzino Giuseppe Taurino, sono questi i momenti più belli della vita amministrativa di un sindaco, vivere a pieno la propria comunità celebrando i propri cittadini. Nonna vita, conclude Taurino, è un esempio vivente da onorare come tutti gli anziani della loro città.